buongiorno stamattina si parte col nostro roast beef per il weekend perfetto panino insalatino e roast beef signori ci siamo ed ecco la carrellata estiva eccoci qua stamattina il banca è libero vedete non ci sono piatti senza legami i legami non servono fanno male a dopo per i saluti signori nel augurarvi un buon weekend ecco che vi faccio vedere un pezzo di storia il mio lontano cucino in francia figlio di cucini di mio nonno continua sempre con lo stesso mestiere guardate che bella busta che mi ha mandato speciacolare bellissimo certo per noi ma c'è live non per tutti sicuramente ma il pensiero è questo nel salutarci per il fine settimana il mestiere alla fine è come nei cattivelli rimane sempre buona domenica